... Andate via, vi prego, perché ho bisogno di una cosa importantissima! Ora vi spiego perché! Questo è un momento proprio a tutta la storia del mio romanzo! Lo che vedete è che è uscito da poco e io sono appena arrivata dalla Sicilia da un tour nella mia terra dove Catania, Siracusa, tante altre città. Ho parlato di questo romanzo che, devo dire, sono molto legata, che pur essendo siciliana ho deciso che questa storia, a differenza degli altri libri, l'avrei ambientata in Salento. Perché il Salento è un posto che io conosco molto bene, perché passo parte dell'anno a Lecce e perché secondo me il Salento comunque, pur non essendo Sicilia, incarna un po' quello che a me piace molto nel sud Italia. Cioè, le bellezze, quel mare spettacolato... Cioè, le bellezze! Musica 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 Musica